Ora a Parona, lo sapete, è un territorio ad alta densità industriale, spesso balzato agli onori delle cronache per problemi legati all'inquinamento. Eppure non mancano le eccellenze in termini di attenzione all'ambiente, ci le racconta Paolo Barri nel prossimo servizio. Si trova a Parona lo stabilimento per la produzione di vernici per legno più grande d'Europa e probabilmente del mondo. Si tratta della sede principale della IWM Chemicals, azienda nata a bareggio con consociate in tutto il mondo. 15 ettari in cui si alternano numerosi capannoni che ospitano le varie fasi della lavorazione di vernici sia ad acqua che in resina. Un impianto all'avanguardia in cui lavorano circa 250 persone provenienti non solo dal nostro territorio ma anche da zone più lontane, fra operai, ricercatori e impiegati amministrativi. La particolarità è che in una terra purtroppo spesso salita agli onori delle cronache per questioni relative all'inquinamento, lo stabilimento della IWM Chemicals rappresenta un'eccellenza mondiale proprio per l'attenzione all'ambiente. Grazie a un investimento di quasi un milione di euro per installare un particolare impianto detto criogenico, l'intero ciclo di produzione avviene senza che nulla sia disperso nell'atmosfera.